Una Pasquetta sottotono nell'Alto Matese, come vedete nelle immagini, che solitamente ogni anno, come da tradizione, diventa meta di turisti. La paura e il rispetto delle regole hanno ridisegnato stamattina e oggi pomeriggio uno scenario insolito, un territorio spento e quasi spettrale, anche se ormai siamo al secondo anno. Oggi era un perfetto copia in colla del 2020, con la gente chiusa in casa, gritorismi e ristoranti ridotti alla fame, quando di questi tempi si riusciva addirittura a recuperare un po' sulla stagione invernale. Per ora bisogna ancora grapparsi purtroppo all'asporto, con la speranza che questa brutta storia finisca quanto prima. Da Matese è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it